Credo che questo sia il bello anche del calcio, l'imprevedibilità del momento che fa diventare questo sport più bello al nuovo e che tutti cercano di decifrare ma che in realtà è indecifrabile perché ha talmente tante variabili che riguardano non solo la tecnica, la tattica, il momento, la mente, le emozioni, il contesto, l'ambiente e quindi non lo sai, diciamo che era una partita in cui ero particolarmente ispirato perché anche a livello tecnico di gioco c'erano state tante altre belle giocate quindi quando entri in fiducia, un'altra spiegazione potrebbe essere questo ti senti in grado di far tutto e quindi anche cose che non pensi in realtà diventano naturali come un tiro da 25 metri